Gli operatori turistici del Cilento puntano i piedi contro i ritardi del governo nel rilasciare gli atti necessari per l'avvio dei lavori per allungare a 2000 metri la pista dell'aeroporto Costa da Malfi. Difatti non è stato ancora emesso il decreto interministeriale che riconosce alla società aeroportuale la gestione completa dell'area, fondamentale per consentire alla stessa la pubblicazione del bando per l'appalto dell'opera. Tutto questo nonostante il benestare dell'ENAC risalente a diversi mesi fa. Gli operatori cilentani hanno deciso così di dare vita ad un'azione che unisca tutti gli imprenditori turistici della campagna e del potentino che miri a stimolare il governo a firmare il decreto. Il 21 febbraio, a partire dalle 17, presso l'hotel MEC di Pestum si terrà l'assemblea indetta dal presidente dell'associazione Cilento Turismo, Angelo Coda, alla quale sono stati invitati i distretti turistici della campagna e gli operatori della provincia di Potenza a cui è rivolto lo scalo aeroportuale del Salernitano. In quella sede sarà sottoscritto un documento da inoltrare al ministro dei Trasporti e delle Finanze. Un documento che evidenzierà l'importanza dell'allungamento della pista e più in generale di dotare il Salernitano di un aeroporto a sostegno del mercato turistico e i benefici che ne trarrebbero i comuni più a sud della provincia. La questione è stata già sottoposta all'attenzione del presidente regionale della campagna in uno degli incontri che si stanno svolgendo presso la BIT di Milano. De Luca, in conferenza stampa, ha colto l'occasione per sollecitare il mondo imprenditoriale a sostenere l'azione di protesta partita dal Cilento e a favore dell'aeroporto Costa da Malfi. I ritardi del governo hanno impedito di far pubblicare entro il 2018 il bando per l'affidamento dei lavori, così come era stato previsto dalla società che gestisce lo scalo.